Con l'assistente vocale MBUX è possibile comandare tramite immissione vocale diverse sezioni del sistema multimediale MBUX, quali ad esempio il telefono o la navigazione. L'assistente vocale MBUX viene avviato premendo il tasto sul volante. Se l'attivazione vocale è attivata, il sistema di assistenza può essere avviato anche pronunciando un apposito comando, ad esempio «Ehi, Mercedes!». Per gestire il dialogo con l'assistente vocale MBUX è possibile utilizzare comandi vocali caratterizzati da una fraseologia colloquiale, ad esempio «Ehi, Mercedes!». Naviga verso la più vicina stazione di servizio. Per ulteriori proposte di immissioni specifiche è possibile pronunciare la parola «aiuto» in combinazione con il rispettivo tema, ad esempio «Ehi, Mercedes!». Mostrami la guida per la navigazione. Inoltre, tramite il sistema di assistenza è possibile richiamare informazioni specifiche relative al proprio veicolo, ad esempio relative ad equipaggiamenti individuali, principi di funzionamento e possibilità di comando di sistemi e componenti installati. Una possibile domanda a tal fine potrebbe essere «Ehi, Mercedes!». Come si regola il mio sedile?». Dopo l'attivazione delle azioni vocali online, tramite il portale Mercedes.me, il guidatore dispone della piena funzionalità dell'assistente vocale MBUX. Per ulteriori двorzezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze